C'è un luogo senza tempo dove puoi navigare nella storia a vele spiegate. Sono il comandante Massimiliano Siragusa e ti do il benvenuto a bordo di nave Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana. Nave Vespucci, il mistero del tempo, è un appassionato racconto scritto dal giornalista Enrico Gurioli e impreziosito dai minuziosi disegni e le affascinanti fotografie fornite dalla Marina Militare. Il viaggio inizia il 22 febbraio del 1931, con il memorabile varo nel cantiere di Castellamare di Stadia e continua fino al recente passato, segnato dalla pandemia Covid, attraverso decine di campagne di istruzione, burrasche, una guerra mondiale, imprese olimpioniche, un giro del mondo e manovre al limite dell'impossibile. Ti addentrerai tra i segreti della nube, custoditi dal suo equipaggio. Vivrai emozioni continue, accompagnate dal vento e dal mare. Ideato, progettato e realizzato con ingegno e maestria, il Vespucci è l'emblema dell'eccellenza del Made in Italy. Da 91 anni accogli i futuri ufficiali di Marina, che, navigando i mari della sapienza e della perizia, imparano a conoscere e superare i propri limiti, apprendendo l'arte marineresca. Qui si acquisisce la consapevolezza del ruolo basilare giocato dal mare nel corso dei secoli, del legame indissolubile tra il paese e la marina militare. Infatti il mare, da sempre croceria di popoli, lingue e culture, è l'elemento da cui l'Italia può trarre sicurezza, sviluppo e benessere. Non a caso il racconto inizia dalla constatazione che senza il mare non c'è Italia. Il Vespucci, simbolo della marittimità, custode di antiche tradizioni e ambasciatore dell'Italia nel mondo, è pronto ad accoglierti. Preparati a lasciarci il cuore. Grazie. 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 Grazie.